Nei giorni scorsi il nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossello Orlandi, ha fatto una dichiarazione curiosa, sostenendo che le tasse sono belle, di fatto è la ripresa di un'affermazione che già aveva fatto qualche anno fa il Ministro Padua Scoppa, che ora non esiste più, e certamente in entrambi i casi si tratta di tesi bizzarre, per quale motivo? In primo luogo perché usare la categoria del bello, cioè una categoria estetica per le tasse, sembra davvero fuori luogo, è chiaro che il senso vuole essere un altro, si vuole in qualche modo dire che è bello, come dire che queste tasse esistano, che tutti le paghino e così via, e anche in questo modo, letta in questa maniera, la frase resta comunque molto discutibile, per quale motivo? Perché nella teoria politica, nella filosofia politica, si guarda alle tasse come all'estrazione di risorse che il sovrano, un tempo il re, ora il Parlamento, ovviamente con il suo apparato di burocrazia e così via, l'estrazione di risorse che il re, appunto il sovrano, fa nei riguardi della società. E va detto che nella storia europea c'è stato un lungo e difficile processo di legittimazione di questo, il fatto che alcune persone, il ceto dirigente, il ceto politico, possa disporre di quanto produce chi lavora con la propria attività industriale, agricola, commerciale e così via, per lunghi secoli è apparso qualcosa di discutibile. Oggi le tasse in qualche modo sono accettate, anche se il dibattito certamente resta vivo. Resta viva la domanda se sia legittimo che qualcuno possa appunto appropriarsi in maniera legale di risorse altrui. Ma nello specifico, lasciando da parte i discorsi più teorici, parlare di tasse belle in Italia, in particolare, ma più in generale in Europa, è davvero qualcosa che deve farci riflettere. Perché? Perché noi siamo oggi in una grande difficoltà, essenzialmente perché si muore di tasse. La nostra società europea e in modo specifico la società italiana sono, come dire, ormai in ginocchio con aziende che chiudono, con giovani costretti a migrare, con prospettive davvero molto, molto difficili. Proprio perché la quantità di risorse che viene estratta dal mondo produttivo e viene utilizzata, quindi dall'apparato politico burocratico, è ormai questa quantità enorme. Questa enormità della pressione fiscale è, a giudizio di tanti ormai, il vero problema da superare. Le tasse quindi non sono belle, assolutamente. Le tasse sono il problema. Se vogliamo usare un giudizio estetico, le tasse sono davvero brutte. Allora di ridurre la tassazione, non solo come dire di renderla più semplice, perché oggi è molto complicata, è oneroso perfino pagare le tasse, è oneroso sapere quanto si deve pagare, ma in generale deve proprio diminuire, diminuire in maniera significativa questo prelievo che appunto, come dicevo all'inizio, sottrae risorse al mondo produttivo e lo attribuisce al sovrano. Il sovrano, la classe politica, la classe burocratica, non possono dire che le tasse sono belle, non possono dire perché non è vero, perché a questo livello di tassazione le tasse sono davvero la principale difficoltà che dobbiamo superare e ridurre quindi questo peso sulla società è davvero la questione delle questioni. Le tasse non sono belle, le tasse vanno ridotte, se non riusciremo a ridurre la pressione fiscale non ci sarà assolutamente futuro per la nostra economia. Reteconomy, la nuova visione dell'economia.